Buonasera e bentornati in diretta per Primo Cittadino. Ha raggiunto i nostri studi il sindaco di Cartoceto Enrico Rossi. Bentornato sindaco. Buonasera, buonasera soprattutto chi ci sta guardando. Vi ricordo come sempre i numeri di telefono 0721 86 14 33 per chiamare e quindi parlare direttamente con il sindaco ma potete viarci un messaggio anche con whatsapp al 338 49 68 250. Sindaco abbiamo davvero tante cose di cui parlare, progetti importanti ma io partirei da uno che è atteso da molti anni perché a Lucrezia avete presentato il nuovo spazio civico dedicato agli anziani. Anche qui una bella risposta. Sì, qualche sera fa dopo due anni di pandemia che obiettivamente ha distolto un po' l'attenzione dell'amministrazione non soltanto da questa opera ma anche da tante altre che avevamo messo in cantiere come prioritarie nel nostro programma elettorale. Abbiamo presentato quello che è una bozza abbastanza vicina a quello che sarà il progetto esecutivo che approveremo entro l'estate. Immediatamente a seguire andremo a perfezionare sicuramente il finanziamento dell'opera, la gara d'appalto per poi procedere quanto prima con l'aggiudicazione dei lavori. È sicuramente un'opera molto molto attesa dagli oltre 300, quasi 400 soci del centro sociale Sandro Severi di Lucrezia e è bene sottolineare che questa struttura che stiamo vedendo sugli schermi ospiterà anche la nuova sede della Polizia Municipale con spazi potenziati per gli agenti, un'area riservata alla workstation per gli impianti di videosorveglianza integrati che abbiamo sul territorio che ulteriormente potenzieremo prossimamente. Altra bella notizia riguarda le mura del capoluogo, ricordiamo le sue storiche battaglie. Sicuramente una notizia altrettanto importante, se questa che abbiamo appena visto è importante per la frazione di Lucrezia, sicuramente la cinta murale di Cartocetto lo ha in modo particolare per il capoluogo, proprio nella giornata di giovedì, quindi tra tre giorni provvederemo alla firma di tre contratti per altri 1.600.000 euro di lavori legati al restauro conservativo e alla messa in sicurezza di altri tre tratti molto importanti della cinta muraria di Cartocetto. Sicuramente non è lo step ultimo, ma sicuramente è uno di quelli più importanti per quella che è la definitiva sistemazione della cinta muraria. Si è parlato anche del trasferimento della farmacia, ci può dare qualche notizia in più che è sicuramente molto utile. Beh, questa è sicuramente una vicenda attorno alla quale c'è grande interesse, c'è stato già negli anni pregressi, ma in modo particolare proprio in questi giorni in cui tutta la comunità, devo dire, sia del capoluogo che della frazione sta vedendo movimenti sostanziali, in questo senso c'è interesse. Noi da questo punto di vista siamo fermi nella convinzione e nell'obiettivo di portare avanti quanto esattamente deliberato il 31-12-2020, cioè quella di, attraverso la nuova zonizzazione delle sedi farmaceutiche che per l'appunto abbiamo approvato in data 31-12-20, garantiremo così una migliore e maggiore diffusione e disseminazione del servizio farmaceutico nel nostro territorio, appunto con il potenziamento della seconda farmacia sulla frazione di Lucrezia, ma sicuramente non terremo sgombero, se non per un arco temporale necessario non soltanto all'istituzione, cosa che abbiamo già fatto, quanto all'apertura della terza sede farmaceutica sul capoluogo. Quindi il punto di arrivo, al netto di qualche piccolo disagio, di qualche piccola difficoltà in itinere, sicuramente sarà un maggior potenziamento del servizio a beneficio dei cittadini. Iniziamo a dare spazio ai nostri telespettatori e sentiamo subito chi c'è al telefono. Buonasera. Buonasera sindaco, sono Stefano Pianosi. Buonasera. Ciao, ciao. Volevo porre l'attenzione su due piccoli punti, diciamo, due questioni. La prima riguarda la pulizia del Rio Secco. Allora, secondo me nel vostro primo mandato avete fatto un ottimo lavoro e una pulizia molto accurata, devo dire la verità. Mi chiedevo se avete messo in preventivo una nuova pulizia, anche perché la vegetazione sta diventando un problematica, soprattutto lunga la fascia del Comune di Carrocetto di Lucrezia e Ponte Morello. Il secondo punto riguarda il settore del commercio che, come tu ben sai, mi riguarda di persona. Se a mio avviso è stato lasciato un po' in disparte, senza nulla a togliere le eccellenze agroalimentari del territorio, chiaro. Però ci sono anche altre realtà commerciali che andrebbero valorizzate, ad esempio con degli eventi, come stanno facendo i comuni limitrici. Come pensi? Grazie. Grazie Stefano Pianosi, sindaco. Intanto saluto Stefano perché ci conosciamo e ci diamo anche del tu, quindi se mi ascolta lo saluto volentieri. Per ciò che riguarda la questione del Fosso del Rio Secco, è assolutamente vero che nel precedente mandato abbiamo fatto un intervento sicuramente radicale, molto importante, soprattutto da un punto di vista funzionale, cioè che è quello sostanzialmente principale che deve attenzionare un po' l'operato dell'amministrazione, ovvero il regolare deflusso dell'acqua di questo corso minore. È altrettanto vero che la vegetazione è già abbondante lungo quel tratto, però in questo momento non abbiamo un problema di carattere funzionale, ma è sicuramente un problema di carattere estetico. Non l'abbiamo in questo momento, lo abbiamo ormai, oserei dire, da diversi anni perché come sappiamo bene la vegetazione purtroppo ricresce e lo fa anche in fretta. Per ciò che riguarda il Fosso del Rio Secco, l'attenzione dell'amministrazione in questo momento è concentrata invece sulla risoluzione di alcuni problemi di dissesto idrogeologico. Abbiamo già presentato un paio di interventi a valere uno su un bando regionale e l'altro a valere invece sulla legge di bilancio dello Stato per porre rimedio attraverso un intervento di mitigazione a questa situazione che si è via via andata a creare negli anni e che devo dire è anche abbastanza urgente risolvere. Quello invece a cui accennava Stefano è sicuramente un problema che si ripete negli anni, obiettivamente al quale l'amministrazione prima o poi dovrà rimettere mano, però ripeto adesso ci preme particolarmente lungo il Fosso del Rio Secco risolvere quelle due situazioni. Per ciò che riguarda invece la seconda questione sollevata ne prendo atto e appunto perché è sicuramente non solo una sollecitazione ma uno spunto interessante da parte di Stefano che ringrazio per la sollecitazione in questo senso. Prima di passare alla prossima telefonata due messaggi per lei. Intanto le chiedono se ha intenzione di fare un'area sgambatoio per i cani? La risposta è sì, abbiamo inserito nel bilancio di recente approvato anche delle risorse abbastanza importanti, ne parlavamo proprio qua in questa trasmissione l'ultima volta, se non sbaglio rispondendo ad una domanda e siccome i progetti si portano avanti come dico sempre non con la filosofia, con i buoni propositi o con i buoni principi ma si portano avanti poi attraverso gli atti, i gesti, le azioni concrete, cioè attraverso le risorse economiche, nell'ultimo bilancio abbiamo per l'appunto inserito questo tipo di risorse che speriamo, così come abbiamo sempre detto e voluto fare, di mettere a frutto traducendo nella concretezza questo tipo di azione assieme ad una rappresentanza diciamo così del tessuto associativo che ci sta accompagnando in questo percorso. Quindi per definire anche il luogo poi? Beh il luogo diciamo che è definito perché abbiamo sicuramente in testa di dislocare questa area in via 11 settembre e sono diversi mesi che ormai stiamo portando avanti questo progetto, speriamo quanto prima di riuscire ad arrivare alle battute finali concludendo un po' tutti quelli che sono gli elementi che ancora oggi dobbiamo definire però ecco l'importante era adesso questo passo come detto prima molto molto preciso e molto concreto cioè inserire le risorse in bilancio per poterlo finanziare. Da otto anni, le dice una signora, il comune deve consegnare il terreno, ha già dato l'ordine per lo scavo della fornace, possiamo aiutarla in qualche modo questa signora? Oddio, in realtà non dobbiamo riconsegnare il terreno, in quella zona c'è una polizza che il comune può escutere per la cosiddetta rinaturalizzazione di tutta l'area a seguito dell'abbandono dell'attività di scavo per la produzione di materiali di laterizzi sostanzialmente. Noi abbiamo nei tempi, così come prevedeva quella polizza da escutere, inviato la comunicazione all'istituto di credito, poi però nel frattempo devo dire, e su questo l'amministrazione è sempre stata abbastanza chiara anche nei rapporti interlocuzione con tutti i soggetti coinvolti, abbiamo ricevuto diverse manifestazioni di interesse per insediare nuove realtà economiche e produttive in quell'area e quindi abbiamo un attimo fermato le bocce per capire se era possibile, e lo stiamo facendo tuttora, risolvere quel tipo di problema che è preminentemente di carattere ambientale attraverso l'insediamento in una nuova realtà produttiva, che a quel punto avrebbe ovviamente dei riflessi molto molto importanti anche dal punto di vista economico e occupazionale. Se riusciremo a perseguire in tempi relativamente brevi quel tipo di strada e allora abbiamo sempre creduto di poter portare a casa quel tipo di risultato, cioè l'obiettivo a cui richiamava l'attenzione la signora, però al tempo stesso non perdendo di vista gli altri obiettivi altrettanto importanti. Viceversa, invece, procederemo, come ho detto prima, cioè attraverso la realizzazione di quei lavori escutendo la polizia fidei fissori. Reggio, abbiamo anche l'altra persona pronta al telefono? Ok, buonasera. Il sindaco è qua, che l'ascolta. Sì, buonasera. Prego. Buonasera. Buonasera. Sì, buonasera. Senta, io sono un ex comandante di nave mercantile, ho girato il mondo e ho una seconda casa a ripalta di cartoceto e dove passo il fine settimana e anche molti altri giorni. Naturalmente mi trovo molto bene nel suo territorio, dove tutto, a mio parere, è ben pulito, si mangia bene. Avrei due desiderate. Il primo, se in via San Luca potesse mettere qualche luce, sarebbe molto gradito. E il secondo, forse più difficile, se prima di morire, quelle due gru che mi trovo davanti al paesaggio da 15 anni circa, potessero terminare i lavori. Così usufruisco del bellissimo territorio e del... vedo pure il mare. Grazie e buon lavoro. Grazie a lei. Partiamo dall'illuminazione o...? Non ho capito l'ex comandante di cosa, ma poco importa rispetto invece alle sollecitazioni. Perché avevamo il volume basso. Navale, regia, abbiamo capito bene? Poco importa perché ho ben capito invece le due domande. Per ciò che riguarda la pubblica illuminazione, non so dare una risposta precisa in termini temporali questa sera, però sicuramente è una, per ciò che riguarda il potenziamento della pubblica illuminazione, una delle zone che abbiamo in elenco. In modo particolare, il signore citava via San Luca, in modo particolare l'intersezione tra via Crocefisso e via San Luca, perché obiettivamente c'è non soltanto un'intersezione, ma una leggera curva pericolosa, scarsamente illuminata. Per quanto concerne invece le gru che richiamava nella sua domanda, non so se ho ben individuato mentalmente le gru a cui faceva riferimento, penso di sì, e anche l'amministrazione auspica sicuramente di poter vedere quanto prima realizzati quei lavori e per i motivi che, e conclusi, non soltanto realizzati, e per i motivi che ricordava chi è intervenuto, cioè di carattere paesaggistico, estetico e ambientale, ma anche per quelli che potranno essere i servizi di ricettività che quel tipo di struttura potrà garantire alla frazione di ripalta che, come ho sempre detto, è sicuramente una parte integrante molto importante per ciò che riguarda la vocazione di Cartoceto in quella che è la sua accoglienza turistica. Tra poco torneremo a leggere i messaggi, ma vorrei parlare un attimo con lei di finanziamenti comunitari, PNRR, ma anche finanziamenti regionali, perché ci sono tanti progetti, come vi state muovendo? Ma diciamo che, come tutte e come tante amministrazioni comunali, sicuramente facciamo molta fatica nel cercare di partecipare a tutte quelle che sono le opportunità che si stanno un po' rappresentando di fronte alle amministrazioni comunali, semplicemente per l'esiguità di quelle che sono le risorse umane interne a disposizione, però nel nostro piccolo, insomma, cerchiamo di non perdere questo tipo di opportunità molto molto importante, se non altro le principali. Di recente abbiamo partecipato a diversi bandi PNRR per ciò che riguarda il mondo dell'infrastruttura scolastica, mi viene in mente la nuova palestra per circa 235 mila euro presso la scuola dell'infanzia Arcobaleno di Ponte Murello, i 488 mila euro del progetto di messa in sicurezza e di riqualificazione della palestra o della scuola secondaria di primo grado. Quindi questi sicuramente sono stati degli interventi, dei progetti che abbiamo candidato molto molto importanti a valere sul PNRR. Sempre a valere su questo tipo di misure, ma ci spostiamo su tutt'altro ambito, penso a quello ambientale, va sicuramente sottolineato il progetto che abbiamo candidato assieme ad ASEP per circa 1 milione e 400 mila euro, se non ricordo male, per ciò che riguarda le isole ecologiche ad accesso controllato. E questi sono insomma sicuramente degli interventi molto 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 importanti. Altri, prima durante l'intervento del cittadino di Stefano Pianosi accennavo a quei due interventi di mitigazione del rischio di dissestere geologico lungo il rio secco e anche qui abbiamo candidato un paio di interventi per circa 170 mila euro. Ci spostiamo dal PNRR, parliamo del bando sport e periferie, candideremo perché vogliamo anche qui dare una risposta altrettanto importante. il progetto esecutivo di realizzazione in fondo a via Silvio Pellico nel quartiere Canada del nuovo palazzetto dello sport per circa 850 mila euro, così come invece, bando regionale e non nazionale, un progetto di riqualificazione del circolo tennis di Lucrezia, così come dell'impianto sportivo Omar Sivori. Da non dimenticare, anzi rispetto a quella che è l'entità delle risorse sicuramente è il primo da citare, anche se non riguarda il PNRR ma delle risorse nazionali, il progetto di rigenerazione urbana al quale abbiamo partecipato, devo dire abbiamo fatto un lavoro e ringrazio i colleghi perché veramente credo che abbiamo fatto uno sforzo congiunto molto molto importante, mi riferisco ai comuni di Colli Almetaure e di Monbaroccio, insieme a loro abbiamo approvato e presentato un progetto di circa 5 milioni di euro dove il driver progettuale principale è quello dell'impiantistica sportiva, specificamente nel nostro territorio, significherebbe, per ciò che riguarda la zona polisportiva di Lucrezia, trasformare il campo attualmente in ghiaia in sintetico, significherebbe demolire le vecchie tribune fattiscenti e inagibili per realizzare una nuova palestra, nuovi spogliatoi e nuovi locali accessori, il percorso campestre a servizio del gruppo podistico Lucrezia senza dimenticare l'area nel capoluogo di Cartoceto dedicata ad area camper, ma che diventerebbe un po' un punto nodale di noleggio e di servizi accessori per gli amanti delle bici e anche e soprattutto delle bici elettriche che decideranno di percorrere quelli che sono i sentieri, i percorsi cicloturistici appunto tra Cartoceto, Collier Metauro e Monbaroccio. Quindi un lavoro veramente molto molto importante, ingente in termini di progettazione, speriamo che buona parte percentuale di tutto quel lavoro che stiamo facendo possa tornare indietro rispetto a notizie positive, cioè rispetto a risorse economiche e finanziarie importanti. Forse ne avevamo parlato anche durante la scorsa puntata di Primo Cittadino di questa bretella stradale importantissima tra via pilone e via della liberazione. Sì, non l'ho citata questa tra i finanziamenti perché invece tanto quanto il centro sociale anziani con cui abbiamo aperto questa sera, questa invece sarà finanziata quasi interamente con risorse nostre, sarà un investimento molto 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 importante, ci stiamo lavorando perché le versioni progettuali stanno ovviamente via via cambiando nel corso dei mesi secondo le diverse valutazioni che stiamo facendo come amministrazione insieme ai progettisti, ma resta assolutamente assieme al centro civico per ciò che riguarda le risorse finanziarie dell'ente, proprio del bilancio dell'ente, uno degli obiettivi programmatici più importanti perché siamo sicuri che non risolverebbe soltanto quello che è l'annoso problema del traffico, soprattutto il traffico pesante, lungo via pilone all'intersezione con via corvina, ma soprattutto getterebbe le basi per uno sviluppo di tipo economico legato all'insediamento di nuove realtà artigianali, industriali e produttive proprio nella zona che sta tra via pilone e via della liberazione. Sentiamo subito che c'è in linea, so che c'è una persona pronta per parlare con lei. Buonasera. Buonasera, salve. Prego. Ascolti, io volevo fare una domanda al sindaco. Le volevo chiedere perché non ci sono più controlli da parte della Polizia Municipale per i quartieri di Lucrezia, soprattutto nei quartieri di Ponte Murello, dove anche di sera si sente gridare, urlare e per quanto riguarda anche gli atti vandalistici che ci sono stati nei scorsi anni che erano passati anche addirittura con le bombolette a verniciare le macchine. Grazie. Io devo più controlli da parte della Polizia Municipale, visto che sono lì e che vengono anche pagati e magari quando vai in caserma non ci sono mai. Facciamo rispondere subito il sindaco. Le aggiungo che proprio a Ponte Murello hanno chiesto più controlli o comunque una soluzione perché le auto vanno estremamente veloce e non rispettano i 50 km orari. Intanto mi preme sottolineare una cosa, non devo fare una difesa della categoria però con i numeri esigui davvero di personale con i quali oggi dobbiamo fare i conti, viceversa mi trovo invece in dovere di ringraziare il personale della Polizia Locale per quello che sta facendo e soprattutto per i turni che stanno facendo con tantissime settimane di ferie arretrate che non stanno facendo proprio per cercare di garantire comunque quelli che sono i servizi primari. Ciò detto e ciò premesso, sicuramente quelle che sono le problematiche che sollevano i cittadini, aggiungo io, non soltanto proprie del quartiere di Ponte Murello ma sicuramente in generale in diverse zone del nostro territorio, in particolar modo della frazione di Lucrezia, ci stiamo lavorando in diversi modi. È di recente approvazione un accordo, una convenzione con il Comune di Monbaroccio per l'utilizzo congiunto del telelaser e proprio in queste settimane abbiamo iniziato, nonostante quanto detto poco fa, cioè le esigue risorse umane che poi effettivamente sono addette all'utilizzo di questa strumentazione a utilizzarlo, a disporlo lungo i principali punti che presentano problemi legati alla elevata velocità di transito e soprattutto assieme al nuovo comandante perché colgo anche l'occasione oltre che per ringraziarlo anche per chi magari non lo sapesse per dire che dallo scorso primo dicembre 2021 il vecchio comandante della Polizia Municipale, il precedente, è andato in pensione e quindi stiamo completamente riorganizzando le risorse umane. A breve assumeremo un altro agente di Polizia Municipale a tempo indeterminato ma soprattutto attraverso, a proposito di bandi e di progetti di cui parlavamo prima, qui non parliamo di infrastrutture ma parliamo di servizi, siamo riusciti ad ottenere anche le risorse per assumere, seppur a tempo determinato ma per quasi un anno, un ulteriore agente di Polizia Municipale. Quindi questo significa che per una finestra temporale abbastanza larga riusciremo addirittura a potenziarlo di due unità l'attuale organico. Questo sicuramente si rifletterà, anche se non tutti i giorni o tutte le sere per la questione del pattugliamento, però si rifletterà positivamente sulle problematiche che stavano appunto accennando poco fa il cittadino o magari anche colui o colei che ha scritto questo messaggio. Mi preme però, visto che entrambi attenzionavano particolarmente il quartiere di Ponte Murello che è stato uno dei primi, proprio per i problemi che si sono registrati negli anni passati, non tanto e non solo quanto legati agli atti vandalici che si ricordava prima, quanto anche per lo spaccio di sostanze stupefacenti presso il parco pubblico di via Salvatore Allende, è stato uno dei primi ad essere dotato l'anno scorso di telecamere integrate e collegati direttamente con la sede della Polizia Municipale e infatti quel tipo di episodi non si sono più ripresentati nel corso dell'ultimo periodo. Quindi sicuramente l'attenzione da quel punto di vista è molto elevata, anche se ringrazio i cittadini di aver ulteriormente spronato l'amministrazione in tal senso. Sindaco, ci dobbiamo fermare per qualche istante ma torneremo a parlare di asfalti, cimitero, insomma ci sono tanti messaggi per lei. A tra poco. Bene, siamo di nuovo in diretta. Sindaco, per quanto riguarda il cimitero nella parte vecchia, le dicono, per intenderci l'ingresso verso Cartoceto, un po' di tempo che è delimitata in quanto i cornicioni sono pericolanti. È in programma un intervento in merito? Assolutamente sì, credo che sin dai prossimi giorni sarà un sopralluogo per definire la tipologia, l'entità dell'intervento e vorremmo contestualmente, se possibile, risorse permettendo procedere anche con la ritinteggiatura di quelle che sono le colonne portanti frontali della Chiesa della Pieve. Via della Pieve e Via Lenze, le chiedono se verranno asfaltate? Via Lenze è in elenco tra quelle ancora da fare, assieme a Via Fiume, Via Villa Danti, non le elenco tutte perché rischierei ovviamente di dimenticarne diverse, invece lungo Via Pieve mi pare che entro il mese di giugno o di luglio andrà sostanzialmente ripristinato tutto quello che è stata la sede del recente scavo interessato dai lavori, praticamente quasi tutta Via Pieve per metà carreggiata. Buonasera, volevo sapere a chi dobbiamo chiedere per una ristrutturazione per la cabina? Penso che sia dell'Enel ed è situata nel quartiere residenziale dei Viali, è diventato uno scempio in mezzo alle case, il Comune può incentivare o obbligare a chi di dovere di ripristinarla? Non so in quali termini, parliamo di ristrutturazione, di ripristino, magari invito il cittadino che ha scritto a mettersi in contatto con l'ufficio tecnico, si fa una visura e poi magari capiamo di chi è la competenza e soprattutto qual è la tipologia e l'entità dell'intervento. Sei d'accordo a riaprire un attimo il capitolo delle scuole perché si è parlato anche nei mesi scorsi soprattutto a livello regionale dell'importanza di questi impianti di ventilazione meccanica, Cartoceto sta lavorando per questo? Noi su questo senso prima abbiamo parlato di bandi e insomma anche qui diligentemente abbiamo cercato di non perdere quel tipo di opportunità, abbiamo ricevuto un finanziamento di 80 mila euro, non è e non sarà sufficiente a coprire tutte quelle che sono le necessità, il progetto è di 105 mila euro e i lavori per dotare tutte le scuole primarie degli impianti di ventilazione meccanizzata dovrebbero mi pare concludersi entro il prossimo mese di agosto, quindi assolutamente questo è un obiettivo che siamo riusciti a centrare. Da poco si sono conclusi due interventi di riqualificazione molto importanti su due scuole, una a Lucrezia e una a Cartoceto e per quest'ultima c'è anche un'importante novità. Direi che quella di Cartoceto, cioè quella del capoluogo, è quella maggiormente interessata tra le principali novità perché per ciò che riguarda la scuola primaria di Lucrezia l'intervento è stato abbastanza modesto anche se insomma ringrazio gli uffici perché abbiamo partecipato a quel bando in piena estate, mi pare che scadesse il 16 di agosto, un piccolo intervento di riqualificazione comunque che ci ha consentito di recuperare una parte di quell'edificio praticamente inutilizzato o quasi e di riqualificarla completamente. Invece le novità importanti sicuramente principali sono per il plesso scolastico del capoluogo perché intanto è stato interessato ad un intervento molto molto importante per circa 140 mila euro di ampliamento, un ampliamento nel quale oggi si sviluppa parte del servizio di riflessione scolastica ma direi che la novità più importante che attendevamo da ormai tanti tanti anni e che strutturalmente credo che per il futuro porrà, almeno così auspichiamo, definitivamente la parola fine a quella che è un po' la precarietà delle iscrizioni legate, visto l'argomento che toccava lei prima della scuola primaria, è il riconoscimento del tempo pieno per ciò che riguarda la scuola primaria del capoluogo e questo sono sicuro che darà una prospettiva strutturale permanente negli anni e credo che darà sicuramente anche ulteriore forza e vigoria a quelle che saranno le dinamiche sociali del capoluogo. A proposito di sollievo per le famiglie, avete dato un importante contributo per quanto riguarda i buoni spesi o quantomeno riguarda adesso questa fase? Sì, lì c'è stato sicuramente un lavoro importante, minuzioso, fatto insieme agli uffici per tutte quelle che sono state le risorse messe a disposizione degli enti locali che sono state ulteriormente incrementate da parte nostra con delle risorse da bilancio mi pare se non ricordo male che siamo riusciti all'incirca a distribuire sui 180 mila euro di agevolazioni economiche in questo senso e anche nell'ultimo bando le famiglie nonostante abbiamo anche in maniera importante aumentato la soglia ISEE per la partecipazione insomma le famiglie che hanno partecipato davvero sono state molto molto numerose e questo è sicuramente un segnale rispetto a quello che si è sviluppato sui territori. E si rinnova anche l'appuntamento con il centro estivo Pegaso? Beh parliamo di famiglie, sicuramente questi sono servizi molto attesi da parte delle famiglie Pegaso è uno dei centri estivi che si rivolge ai bambini, ai ragazzi dai 6 ai 14 anni partirà il prossimo 6 di giugno fino al prossimo 12 agosto un centro realizzato da diverse associazioni che abbiamo sul territorio quindi una giusta rappresentazione di quella che è la collaborazione tra l'ente pubblico e il tessuto associativo del territorio così come l'altro centro estivo, l'asilo estivo che invece è rivolto ai bambini come tutti gli anni nel mese di luglio dai 3 ai 6 anni la presentazione tra l'altro, visto che qualcuno ci ascolta sarà giovedì sera alle 21 presso la sala Cecchini in via della Repubblica Lucrezia per cui insomma i genitori che volessero intervenire sono pregati di farlo perché almeno avremo modo di riferire tutte quelle che sono le informazioni di dettaglio necessarie Siete beneficiari anche di un'altra novità un progetto molto importante che riguarda invece i parchi o meglio l'attività libera, ginnastica A metà diciamo tra lo sport, l'attività motoria e la ricreatività perché proprio di questi giorni una notizia che mi ha dato il settore per le pubbliche dicendo che anche qui siamo stati assegnatari di un contributo importante da parte della società Sport e Salute avevamo partecipato con tre progetti uno riferito al parco del quartiere Cantanti uno il relativo al parco Martiri di Bologna e l'altro invece relativo al retro del parco Calcutta diciamo l'area verde lungo l'ex sedime ferroviario sfortunatamente ma per certi versi e altri fortunatamente c'è stato finanziato soltanto quello relativo al parco Martiri di Bologna che significherà che potremo installare delle attrezzature appunto per lo sport, la ginnastica colpo libero e l'attività motoria presso quel parco ciascuna di quelle attrezzature sarà dotata di QR code ci sarà un access point per il wifi libero a cui appunto le persone, gli utenti potranno collegarsi per meglio verificare e comprendere qual è la tipologia di utilizzo di queste attrezzature che sicuramente arricchiranno ulteriormente la dotazione di quel parco centrale per la frazione di Lucrezia Ultimi messaggi per lei perché poi vorrei parlare anche di eventi e non abbiamo molto tempo a disposizione per il parco davanti il Conad a due passi dalla sede dei vigili che cosa pensate di fare? È uno di quelli che è rimasto un po' più indietro perché abbiamo sistemato Ponte Murello, Calcutta, il centrale e il quartiere Cantanti e Pascoli quello è uno di quelli rimasti un po' più indietro assieme al quartiere Santi Canada e leggermente il quartiere fiume per cui anche lì via via gradualmente procederemo Al cimitero di Cartoceto nella parte verso il Beato Sante è senza luce, ci dicono quindi anche lì i lavori di illuminazione pubblica prima passava un pulmino, ci hanno riferito da Cartoceto a Lucrezia il giovedì adesso non passa più si può rimettere perché è comodo per chi non guida ma anche per i disabili Mi pare che l'assessore ci stia lavorando è un servizio che abbiamo sospeso purtroppo visto che l'utenza era prevalentemente anziana a causa pandemia è stato sospeso ma sicuramente è un servizio che verrà ripristinato Ok, dicevamo di questi eventi partiamo da Conterranea Conterranea è una piacevole, una preziosa novità direi per il 2022 perché quando questa amministrazione nel precedente mandato ha deciso di investire fortemente su quella che era un po' una rivisitazione della storica mostra mercato dell'olio dell'oliva l'ha fatto concentrandosi prevalentemente sul capoluogo e sulla sua forte vocazione agroalimentare ma poi via via ci siamo sempre detti che quel tipo di format anche festivaliero doveva essere esportato non doveva essere concentrato soltanto sul nostro territorio ma esportato anche in generale ai territori ricadenti all'interno dell'areale Conterranea è esattamente questo sono tutta una serie di serate gourmet di esaltazione di quelli che sono i sapori, i piaceri in modo particolare partendo dalla nostra eccellenza unica dell'olio DOP Cartoceto per l'appunto esaltata da chef e sommelier che ovviamente saranno dedicati per le diverse serate in location d'autore con intrattenimenti musicali molto molto importanti domenica 22 maggio in occasione del Gran Galà dell'Oglio presso l'area del Pincio di Fano alle ore 11.30 ci sarà la conferenza stampa di presentazione di questa iniziativa che via via poi interesserà i comuni di Coglio al Metauro l'11 di giugno il 2 di luglio mi pare Monbaroccio e il 9 di luglio concluderà invece Cartoceto in piazza Marconi Oltre a questo ci sono altri eventi confermati? Ci stiamo lavorando sicuramente ripresenteremo il progetto a valere sul bando Marche Storie che l'anno scorso è stato insomma devo dire un successo a proposito di Ripalta per la frazione di per il nucleo storico di Ripalta quest'anno lo faremo su un altro tema la stessa cosa vale per l'iniziativa di Slella e Ragento che forse quest'anno sarà è prevista per il prossimo 11 di agosto con delle novità molto molto importanti che devo dire invaderanno a tutti gli effetti il centro storico di Cartoceto e poi quest'anno probabilmente invece anche qui dopo diversi dopo un paio di anni direi così di stand by probabilmente faremo delle iniziative molto molto piacevoli e sono sicuro che piaceranno anche alle famiglie sulla frazione di Lucrezia dove storicamente ci siamo sempre concentrati sulle serate di Music Square ad agosto quest'anno invece stiamo pensando magari ad iniziative più semplici ma disseminate per i numerosi a proposito di parchi aree verdi di Lucrezia quindi un po' per tutta l'estate da fine giugno ma se parli musicali? musicali ma non solo di recitazione di commedie dedicate alle famiglie ma anche ai bambini un po' distribuite per tutto l'arco dell'estate da fine giugno fino alla prima settimana di settembre sono iniziative che sicuramente anche in questo caso porteremo avanti con il tessuto associativo che è sempre molto molto prezioso per il lavoro che poi occorre svolgere insieme all'amministrazione comunale per dare però sono sicuro una risposta che piacerà come ho detto prima sia alle famiglie ma anche ai più giovani anche perché c'è voglia di tornare alla normalità assolutamente c'è voglia di ricreazione c'è voglia di socialità ed è il motivo per il quale dicevo abbiamo deciso per questo format di iniziative più semplici in quella che è la loro entità e la loro maestosità ma sono sicuro che saranno molto molto apprezzate Sindaco grazie per essere stato con noi poi aggiorneremo i nostri telespettatori in mano a mano nei prossimi mesi grazie a voi grazie a voi grazie anche a Cristiana Guerra e a Riccardo Sora in regia e l'appuntamento con l'informazione per voi e per domani mattina alle 7 con Massimo Foghetti buona serata buona serata